bella a tutti ragazzo domenico ben tornati su gameplay channel e su super market simulator allora ragazzi apriamo subito il nostro supermercato perché io come al solito ho fatto tutti i vari ordini ho dato tempo diciamo ai nostri magazzinieri di sistemare quasi tutto mancano giusto due cose ma in linea di massima gli scaffali sono belli pienotti allora ragazzi ho tolto la mod che mi sistemava le cose mi ha lasciato anche un po di bug che adesso dovrò capire come risolvere perché alcuni scaffali sono baggati io se clicco qua dove lo spazio vuoto e non ci sono targhe mi dice i prodotti devono essere uguali quindi mi sa che ci sono rimaste delle scatole fantasma che mi occupano praticamente il posto senza che in realtà ci siano i prodotti almeno credo quindi ma adesso vediamo se si sistemano effettivamente questi bug magari sono prodotti che in realtà sono di pese ad esempio che ne so da questa scatola quando poi i magazzinieri rimetteranno a posto magari si sbagherà definitivamente spero che sia così perché se no l'unica cosa che mi viene in mente è vendere gli scaffali che presentano il bug in questo caso sono questo scaffale qua e questo perché anche qua mi dice praticamente la stessa cosa vedete se clicco sul vuoto mi dice che i prodotti devono essere uguali ma l'effettivo qua non c'è nessun tipo di prodotto quindi se non mi si sbaggano devo provare magari a vendere gli scaffali sperando che me li faccia vendere perché se considera che c'è ancora merce sopra io non so se me li farà vendere boh vabbè proverò e spero che vada a posto se no mi rimangono quelli quei due spazi ribagati vabbè pazienza che devo fa spero che vada a posto in qualche modo per il resto comunque stiamo andando bene io ho ordinato bene o male tutto mi mancava giusto qualcosa sugli alcolici ma poi alla fine avevo finito i soldi quindi necessariamente devo aspettare un attimo di rifare qualche soldarello quindi vediamo un attimino cosa riusciremo a fare quest'oggi ma soprattutto mi interessava capire il guadagno ho modificato anche la mod dei prezzi quindi ho messo un 15 centesimi di rialzo infatti vedete che ad esempio il caffè 10.20 il prezzo di mercato 10.35 il prezzo appunto impostato dalla mod quindi io premendo control più il tasto r in automatico mi va a settare tutti i prezzi del locale a 15 centesimi in più rispetto al prezzo di mercato per cui in teoria in teoria se ho fatto tutto correttamente oggi non dovrebbe lamentarsi nessuno per quanto riguarda il discorso dei prezzi niente ho qua mi mi continua a mettere il problema anche in questo in questo scaffale qua e vabbè fa niente vedremo vedremo un attimino se prima o poi si si sbagherà questa cosa e ok per il resto devo dire che spero di guadagnare abbastanza con gli alcolici adesso diamo un'occhiata a tra l'altro un'altra cosa che ho errato diciamo così nello scorso gameplay è che la mod che ci dice la quantità di prodotti nel magazzino riporta anche un'altra cifra prima fra parentesi avevo detto pensavo che fosse la quantità di oggetti contenuti in una scatola per capire quante scatole ordinarne in realtà no ci dice questo numero tra parentesi quanti prodotti abbiamo sugli scaffali in negozio quindi il primo numero è diciamo riporta la cifra dei prodotti presenti sugli scaffali quindi esposti mentre la cifra in questo caso in rosso equivale ai prodotti che abbiamo di scorta in magazzino che effettivamente è ancora più utile perché così ci rendiamo conto di quanti prodotti abbiamo effettivamente esposti in magazzino cioè in negozio scusatemi tipo la salsa piccante è vero che di scorta ne ho solo 5 però vedo che in negozio comunque ne ho 21 per cui ne ho parecchia quindi ci può dare un'idea migliore se fare o meno un ordine anche se magari in magazzino la scorta è un po' più limitata quindi effettivamente è molto più utile così con l'indicazione di questa cifra tipo adesso io il fusto di birra non ho più lo prendo assolutamente vediamo se ce la faccio a prendere queste cose qua perché effettivamente non avevo fatto la scorta di questi ok lì prendiamo subito vabbè la vodka in realtà non mi interessava io volevo mettere la vodka l'avevo messa a qualche parte sì qua sotto ok i fustoni di birra ragazzi vanno veramente veramente tantissimo adesso vado a far cassa quindi ne dovrò prendere assolutamente degli altri perché vanno tanto in più ce li pagano anche tanto quindi dobbiamo sempre averne una bella scorta perché ne vale assolutamente la pena quindi adesso faccio un attimo cassa poi ne andiamo a ordinare ancora perché come detto servono veramente veramente tanto allora questo è a posto così e questa ha preso sta roba qua paga 44 e 15 vai birra chiara è il fusto te l'ho appena messo il fusto e si vede che niente gliel'ho messo dopo che era andata che era andata a vedere se c'era effettivamente il fusto vabbè fa niente fa niente se ne farà una ragione quindi ordiniamo assolutamente un'altra cassa di fusto perché ce ne devono essere per forza di cose almeno due perché sennò veramente diventa rischiosa la cosa il fusto dove l'avevo messo in realtà da nessuna parte per cui lo piazzo là ok dai così va bene perfetto la moda adesso mi ha acceso le luci allora queste sono le patatine le patatine le patatine le metto qua perfetto adesso devo prendere ancora un attimo la mano con lo scaffale nuovo perché non mi ricordo dove ho messo le cose come al solito però vabbè piano 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 ci facciamo ci facciamo l'idea allora qua anche la pasta ce ne sta qualcuna no va bene adesso vediamo man mano che riesco a rimettere qualcosa anche succo non ne ho più lo dovrò prendere assolutamente vabbè poi eventualmente nella prossima giornata facciamo un ulteriore ordine allora 4 e 15 perfetto così adesso questa anche ha preso un botto di roba vabbè qualcuno potrà adesso in questa giornata non aver trovato il fusto però insomma non è un grandissimo problema finché una o due persone sono scontente pazienza insomma ce ne faremo una ragione ok e tu sei a posto così perfetto comunque abbiamo sono le 8 di sera 2.183 dollari peraltro un'altra cosa che effettivamente può avere un senso per il fatto che i clienti aumentano notevolmente la sera potrebbe essere una cosa voluta che rispecchia un po' la realtà nel senso che magari le persone una volta che hanno finito di lavorare vanno a fare la spesa per cui ci può stare come orario assolutamente che nel supermercato ci sia più casino effettivamente di sera che non durante diciamo il giorno in cui per l'appunto la gente lavora quindi effettivamente se è evoluta questa cosa come credo ancora ulteriori complimenti agli sviluppatori perché insomma hanno reso anche l'affluenza comunque delle persone assolutamente realistica allora beh là sotto il formaggio è quasi finito ma ne ho comunque ancora altri due scaffali quindi non dovrei avere problemi anche di sushi e quant'altro ne abbiamo in abbondanza quindi insomma faccio sicuramente meno fatica rispetto a prima a fare gli ordini a livello di soldi proprio allora 46 cosa vuole 30 10 20 30 vai perché comunque si sta indubbiamente guadagnando di più e questa è un'ottima cosa come detto non guadagno ancora quelle cifre così tanto enormi da permettermi appunto ad esempio l'ingrandimento del locale che costa il prossimo se non mi ricordo male addirittura 11.000 non so cosa devo sbloccare io per arrivare a guadagnare quelle cifre perché comunque per quanto adesso faccio sicuramente meno fatica a pagare le cose e a fare gli ordini comunque sia comprando tutta la roba finisco sempre con 50 60 dollari la mattina comprando solo le scorte che poi effettivamente ci servono quindi ancora non riesco bene a capire come fare i soldi veri cioè cos'è che effettivamente ci può far fare il boom economico non l'ho ancora ben capito onestamente perché pensavo di farlo con gli alcolici guadagniamo sicuramente più di prima perché comunque vedete abbiamo finito con 3.190 ah peraltro mi sa che io ho qualche fattura indietro perché ho idea si infatti due giorni che non le ho pagate quindi avrò anche due cose delle banche due pagamenti della banca esatto da pagare anche questi cos'è che ci rimangono tra l'altro allora 2.250 allora quasi quasi nella prossima giornata io sto cacchio di prestito me lo tiro via dalle balle perché mi ha veramente ma veramente rotto tre quarti e così almeno ce lo togliamo via perché non ne posso veramente più e comunque sono bei soldi sì infatti prodotti non trovate uno prodotto troppo costoso sempre uno ci sarà qualcosa che comunque è aumentato magari di qualche centesimo in più perché comunque clienti 54 perché ho tenuto sempre il discorso dell'arrotondamento in eccesso ai 5 centesimi più vicini quindi dobbiamo capire poi se effettivamente qualcosa magari me l'ha aumentato troppo quindi eventualmente proverò ad abbassare ulteriormente la mod e metto un 10 centesimi anziché 15 qua è andato bene che mi hanno trovato comunque un solo prodotto troppo costoso e vabbè ci sta mentre comunque per insomma tutte le altre cose magari metto un aumento solo di 10 così sono sicuro che non si lamentano eccessivamente allora andiamo a dare un occhio agli ordini dunque qua cereali ne abbiamo ancora quindi posso prendere giusto il pane posso prendere giusto sì le due farine le prenderei no controllo di non avere la doppia scatola più che altro perché se no non mi ci sta questo siamo a zero la pasta ce l'ho la devo solo mettere via zucchero a velo a zero assolutamente sì il formaggio bene o male va il caffè possiamo aspettare queste anche queste anche burro d'arachidi anche prendiamo solo giusto un olio tanto per averlo l'altra farina riso ne abbiamo zero quindi è vero che abbiamo 36 esposto però un paio di scorta lo prendiamo e siamo già arrivati a 10 ok ragazzi allora ho sistemato tutte le varie merci come al solito del magazzino qua non mi ci sta altra roba ho un po' di cose che posso ancora sistemare perché ho le doppie scatole quindi non riesco a sistemarle l'immediato però vabbè non è un gran problema sono qui tanto mi ricordo che le ho e va bene così quindi riprendiamo a far cassa stiamo facendo tanto anche come cassa quindi ci va benissimo così perché tra l'altro mi sa che sono aumentato veramente tanto nei clienti che ho fatto io adesso vediamo un attimo nella gestione come cassiere sono a 637 ragazzi mi sto avvicinando ormai alle 700 persone fatte è arrivato a 900 volendo posso anche assumere il terzo cassiere che sì potrei anche farlo nel momento in cui diciamo magari sblocco qualche nuova licenza che è un po' più da fare con la sistemazione delle scatole gli ordini e queste cose qua potrebbe effettivamente tornarmi utile vediamo un attimo la prossima licenza mi costa mi costa ah 3005 pensavo di più però e mi sblocca le patatine la farina il pure di patate il pepe il riso il pane da sandwich e un altro zucchero a velo ancora qua mi sblocca altra carta igienica addirittura sapone per piatti però qua ci richiede il livello 42 quindi niente l'unica che posso sbloccare è questa 3005 ed è fattibile questo perché si è bugato ancora cosa ah ti dà fastidio la carta igienica lì ok te la metto qua e niente ragazzi sti scaffali qua è un problema sti scaffali qua dovrò capire come fare per sbugarli perché se no è un casino se no è un casino perché non posso sfruttarli al 100% quindi quei due mi sa che dovrò vedere di svuotarli questi qua venderli e ricomprarli sperando che me li faccia vendere perché se no li devo inscatolare sperando che me li faccia inscatolare e metterli qua fuori e mollarli qua per forza di cose perché non se no è un casino ragazzi è veramente veramente un casino allora questo non mi ci sta ma questo in teoria si perfetto bene bene così ma sushi grande scusa cioè per una scatola ma c'è una scatola di sushi ah sì ma porca cioè mi hanno tenuto due scatole per due pezzi di sushi praticamente vabbè 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 questa ne ha comprate un bel po' speriamo di far fuori ste gacchie di scatole così almeno così almeno siamo a posto allora 158 vedete che comunque i soldi li stiamo facendo e soprattutto col discorso degli alcolici si sta guadagnando veramente veramente bene ok qua anche il frigo è dire abbastanza pieno posso fare magari già il doppio scaffale con queste birre qua così almeno ok i tizi me li sistemano poi già sul doppio scaffale tanto comunque questa era l'idea arrivo un attimo questa era già l'idea iniziale prendiamo anche questa e facciamo la stessa cosa poi dovrò spostare anche sto frigo perché comunque qua un po' imboscato non mi piace lo dovrò mettere là ma devo fare un po' di cambiamenti un po' di spostamenti poi magari mi li studio mi li studio io poi off camera allora 6 e 30 va bene così vai questo ha preso due fustozzi di birra 116 vedete la birra ci fa guadagnare veramente un sacco la birra soprattutto i fusti grossi quelli non devono mai mancare perché perché ci fa guadagnare veramente veramente tanto allora 12 e 65 vai e questo ha preso un altro bel po' di roba ok 68 e 75 perfetto poi ragazzi fatemi sapere se magari siete a conoscenza di un prodotto specifico cioè una licenza più che altro dopo la quale una volta sbloccata si iniziano a fare veramente i soldi grossi perché ribadisco guadagniamo ma non ancora così tanto da poter appunto comprare espansioni e cose varie cioè facciamo ancora comunque molta molta fatica per cui non lo so non so quale sarà il prodotto miracoloso che ci permetterà finalmente di di fare veramente veramente i soldi a palate perché qua è è un casino è un dannato casino allora 41 e 80 ok cioè che da un lato per carità non mi dispiace perché ci sono giochi ma anche come pumping simulator dove arrivati a un certo punto diciamo fate talmente tanti soldi che si perde anche un po' il senso e la voglia di giocarci nel senso che comunque soldi ormai li fate a palate perché avete sbloccato le cose principali quindi si potreste andare avanti a fare altro ma poi alla fine si finisce per non farlo perché comunque non c'è più diciamo così l'obiettivo di fare appunto veramente tanti tanti soldi qua bene o male questa cosa te la mantiene sempre perché ripeto nonostante io mi sia ingrandito abbastanza nonostante ci abbia insomma impegnato veramente un sacco di ore su sto gioco perché comunque abbiamo fatto ormai quasi 30 episodi praticamente non ho ancora questa cosa di dire beh ormai guadagno talmente tanto che si posso anche sbloccare gli altri prodotti ma chi se ne frega non mi cambiano la vita qua comunque faccio ancora un sacco di fatica a pagare le bollezze pagare gli affitti ordinare tutta la merce cioè nel senso riesco a farlo ma la mattina rimango comunque con ben pochi dollari a disposizione quindi cioè tutte le altre licenze tutte le altre espansioni te le fa sudare veramente tanto anche perché c'è un divare enorme di costo come detto a me la prossima espansione costa 11.000 e quando mai li faccio gli 11.000 cioè 11.000 è tantissimo tra l'altro ti richiede un livello 26 per cui un livello veramente basso cioè io dovrei fare la 8 e per il mio livello di negozio che sono a livello 36 dovrei fare addirittura anche già la 9 che ci costa 16.500 e a breve cioè a livello 37 dovrei sbloccare quella da 20.000 ma quando li faccio io 20.000 dollari a fine giornata cioè ma mai ma veramente mai e non è poi questione solo del prestito perché vabbè il prestito sì ci toglie 360 al giorno è finita lì però cioè non è che ce ne toglie 3.000 al giorno quindi voglio dire non è non è tutta questa grande differenza sinceramente anche togliendomi il prestito per cui boh non so ci deve essere qualche licenza miracolosa che ti fa fare a sto punto il boom il boom economico perché non mi sembra come detto di aver fatto le cose in maniera errata anzi sto sempre cercando di comunque risparmiare dove posso e però nonostante questo ribadisco i soldi non riesco a farli quantomeno non così tanti quindi vediamo io ovviamente proseguo anche perché così stiamo anche in attesa insomma dei nuovi aggiornamenti che spero arrivino presto quindi qua iniziamo a ordinare qualcosina che la metto già nel carrello così almeno ce l'abbiamo per la prossima giornata l'ho già fatto e via io ordino più che altro le cose in rosso le cose che bene o male vedo vanno di più adesso tra l'altro devo anche sistemare qua cos'è che ho beh questo zucchero mi ci starà no questo non mi ci sta in realtà il pane ce l'ho quindi il pane adesso lo tolgo perché però ho già due scatole quindi niente il pane il pane lo tiriamo via allora quindi dammi questo allora pane pane ma l'avevo preso io pane a fette sì allora ok questo lo possiamo tirar via così almeno siamo a posto ah so che c'è anche la mod che ti toglie il limite dei dieci prodotti anche quello potrebbe non essere male come come mod però vabbè per adesso aspetto perché come detto non volevo neanche esagerare con troppe mod allora anche la candigina aspetterei perché comunque ne abbiamo 41 esposte quindi insomma ne abbiamo veramente tante magari prendiamo le pastiglie che queste non abbiamo tantissime starò qua aspettiamo la carta igienica per forza ne devo prendere almeno un paio ok però adesso non posso fare l'ordine perché ormai sono finite diciamo sono passate le 9 quindi non mi fa più ordinare comunque abbiamo 4057 quindi abbiamo ordinato ancora un po' di più niente prodotti troppo costodi sempre uno quindi vabbè dovrò per forza sistemare ancora quella mod però comunque abbiamo 55 clienti fatti in questa giornata quindi insomma non è assolutamente assolutamente male i prezzi li ho già sistemati perché ho premuto direttamente contro l'R e direi che anche questa giornata l'abbiamo fatta e possiamo ritenerci soddisfatti come detto io adesso potrei prendere eventualmente la nuova licenza potrei prendere anche la nuova licenza e ordinare poi le cose che mi mancano man mano quindi facciamo questa cosa qua togliamo tutto ma io ho tolto tutto perché ah si no giusto 4057 i soldi che ho però allora la nuova licenza abbiamo detto che ci costa 3500 però poi dovrò vedere se riesco a se riesco a comprare tutta sta roba anche perché più che altro sono tutti prodotti da scaffale quindi no io prima devo per forza di cose comprare devo per forza di cose comprare altri scaffali ragazzi perché se no non ce la facciamo quindi no facciamo una cosa allora io direi di aspettare un attimo a comprare la nuova licenza e piuttosto propenderei nel prossimo giorno a comprare gli scaffali che ci mancano in modo che facciamo qua un'altra corsia almeno abbiamo il doppio scaffale perché mi sa che la licenza che andiamo a sbloccare è tutta roba da scaffali da quanto ho potuto vedere di conseguenza mi conviene a sto punto aspettare mi conviene aspettare fare già la doppia scaffalatura e via così almeno siamo siamo tranquilli ma io l'humus dove l'avevo messo perché mi sa che non ce l'ho esposto da nessuna parte stavo controllando ah sì perché va in frigo è vero no l'humus mi va in frigo e sì l'avevo messo di qua ok che scemo è vero eccolo qua sì non mi ricordavo più chiedo scusa che andava lì va bene quindi questo direi che lo lasciamo lì le patatine va bene fusto ce l'abbiamo e ok devo poi prendere quell'altra birra che invece questa qua l'abbiamo finita come scorta in magazzino perché volevo fare anche qua il doppio scaffale così almeno siamo più tranquilli va bene ragazzi allora io direi comunque che posso concludere qua con questo nuovo video dedicato a supermarket simulator comunque abbiamo dato una bella sistemata alla mod come detto devo solo ritoccare ancora leggermente la mod dei prezzi anche quella comunque molto comoda perché fa risparmiare un sacco di tempo alla mattina e visto che ho tolto la mod della sistemazione delle scatole me le devo mettere a posto in manuale sicuramente mi è utile almeno quella dei prezzi detto questo ragazzi voi come sempre fatemi sapere cosa ne pensate quindi lasciate un sacco un sacco di like condividete commentate iscrivetevi al canale se non siete iscritti attivate la campanellina delle notifiche per chi vuole dare un contributo concreto al canale come sempre vi ricordo che lo può fare attraverso gli abbonamenti youtube o il tastino grazia di sotto di ogni mio video detto questo giovinoti io vi ringrazio vi saluto e ci becchiamo e per i prossimi che play ciao balli